Presentato presso la sala Borsellino dell'Assessorato al Turismo, il cartellone delle manifestazioni inerenti al Natale ad Erice del 2019. Per voi le interviste. E' veramente il Natale più bello che si realizza in Sicilia, un Natale particolare in questa cittadina medievale dove trovi la nebbia e diventa il Natale. Da quest'anno che condivido la direzione artistica ci sono i presepi, i mercatini e poi per quanto riguarda la parte dello spettacolo abbiamo pensato che ci saranno tutte le eccellenze siciliane. C'è di tutto, la notte di Capodanno con i cubetti, marincuni, dovete venire a Erice. Abbiamo innanzitutto un itinerario a 32 presepi, abbiamo il presepe più piccolo del mondo costruito sulla punta di un ago, degustazioni, inizia il 7 e l'8 e poi proseguiremo con tutte le altre attività. Il programma è molto ampio, molto ben articolato, grazie anche all'organizzazione curata da Pianeta Sud. Realmente ad Erice durante il periodo natalizio si sente presente di essere a Natale. Appuntamenti musicali, sia musicali che teatrali di grande pregio, ma anche attività teatrali, attività per i bambini. Sarà infatti allestito il villaggio di Babbo Natale, tante attività itineranti, non soltanto le zampogne dal mondo che come si diceva provengono da tutta Europa, ma anche gruppi musicali itineranti che gireranno per il nostro centro storico creando quella atmosfera che già Erice ha in sé. Per maggiori informazioni potete visitare il sito della Fondazione Erice Arte o anche la pagina del Comune di Erice o il sito internet del Comune di Erice. Il Museo Cordici ospiterà diverse iniziative, tra cui una delle più importanti è quella di Vladimir Fiorenza, il Corallaio, che presenterà questi suoi capolavori. Una delle pochissime maestranze rimasta in Sicilia, di grande eccellenza. Erice e Natale è un'iniziativa di grande pregio, grazie a questo finanziamento che abbiamo ottenuto come Fondazione Erice Arte, che è una partecipata del Comune di Erice. Essere accolti dall'abbraccio di quello che noi chiamiamo l'abbraccio di Venere, cioè quella famosa nebbia che rende naturalmente, assolutamente, per chi ama Erice, più suggestivo il nostro borgo.